Creare una vera e propria rete sul territorio per garantire un intervento rapido in caso di problemi cardiaci per i quali il tempo è un fattore determinante. Questa è l'intenzione della protezione civile del comune di Salerno che in collaborazione con l'Unione Nazionale Consumatori ha avviato un progetto di raccolta fondi per dotare i volontari dei fibrillatori che saranno allocati in associazioni presenti già in città. Questa mattina la consegna da parte dell'UNC del primo apparato acquistato grazie a fondi raccolti nei mesi scorsi. Nella prossima settimana poi saranno consegnati altri quattro dei fibrillatori grazie alla donazione di un ignoto benefattore. L'altra donazione è che arriva all'Unione Nazionale Consumatore e di conseguenza diamo in dotazione alla protezione civile del comune di Salerno per la gestione un piano di cablaggio ideato dalla protezione civile condivisa dall'UNC per assicurare in caso di emergenza cardiaca un intervento immediato. L'idea sarebbe questa, tenete conto che i fondi nascono dalla solidarietà quindi più la gente ci darà aiuto più riusciremo a dare un servizio completo a tutta la città.